La proprietà del Grand Hotel Principe di Piemonte, gioiello Liberty via Reggino, ha fatto realizzare un'illuminazione del monumento simbolo del lungomare in occasione delle festività natalizie. Il Grand Hotel è chiuso da alcune settimane, come annunciato, per lavori di ordinaria manutenzione, ma da questo fine settimana e fino al 6 gennaio garantirà un colpo d'occhio che valorizzerà ancora di più la sua struttura. È stata installata una suggestiva illuminazione multicolor con luci a LED. Tecnicamente si tratta del sistema RGB con l'utilizzo del videomapping che prevede la possibilità di proiettare immagini sulle facciate degli edifici per ottenere spettacolari effetti visivi anche in 3D. La stessa azienda specializzata in queste installazioni ha realizzato anche l'illuminazione con il tricolore all'esterno del cantiere Maiora che si affaccia sul canale Burlamacca.